Non so se questi due capitoli sono meglio dello champagne, tuttavia signori vi do il benvenuto in questo nuovo contenuto multimediale dove discuteremo dei capitoli 252 e 253 del manga di Jujutsu Kaisen. Partiamo subito a bomba perché è stata rivelata la copertina del volume 26, che conterrà dal capitolo 228 al 236. Sì, finisce con quel capitolo e in copertina c'è Gojo con dei fiori, già. Passando però a quelle che sono le vere novità, ovvero i nuovi capitoli usciti, alla fine del capitolo 251 Yuji, Yuta e Rika sono stati colpiti dal taglio dello spazio di Sukuna. Inoltre abbiamo visto l'arrivo, finalmente aggiungerei, di Maki sulla scena, che ha trafitto Sukuna con la Split Soul Katana. Il capitolo 252 inizia con un flashback, come al solito ovviamente. Questa volta vediamo in base a quale criterio è stato deciso quando Maki sarebbe intervenuta, cioè caduto mentre Yuji e Yuta erano all'interno del dominio con Sukuna. Pare che la ferita di Sukuna abbia serie difficoltà a guarire, questo perché Maki gliel'ha inflitta con la Split Soul Katana, ma anche perché sta ancora risentendo degli effetti dello scontro con Gojo. E a Kutami in questi capitoli non fa altro che dirci, eh Sukuna potrebbe far così ma sta risentendo degli effetti ancora e quindi non può farlo. Fa di tutto per dirci che Gojo non è morto in vano. Nel frattempo Uiui va a soccorrere Yuta e Rika. Mio Dio santo cielo, i disegni qui sono praticamente abbozzati, questo poiché non si è riusciti a completare la parte estetica prima dell'uscita del capitolo. Non mi ci soffermo troppo perché parlano da soli fondamentalmente. Ricordiamo comunque che Uiui sta portando i feriti da Shoko per farli curare. Allo stesso tempo Yuji cerca di curarsi la ferita, ma non ce la fa più di tanto, questo poiché ha subito troppi danni. In suo aiuto arriva Chioso, curato, bello, perfetto, pulito, che gli dà qualche dritta su come utilizzare la manipolazione ematica fondamentalmente per non morire. Quindi combinando la tecnica maledetta inversa con la manipolazione ematica, molto probabilmente Yuji potrebbe riuscire a salvarsi e a ripristinare le proprie ferite in pochissimo tempo. Secondo me però sarebbe anche ora di spiegare in che cosa consiste il power up di Yuji, perché ok abbiamo visto che ha dei nuovi poteri ma non sappiamo ad esempio come li ha ottenuti. Per me bisognava già farlo qualche capitolo fa, ma ancora nessuna informazione. Perché tanto se sappiamo cosa può fare Yuji, cioè a sto punto dici come ha ottenuto queste abilità e siamo a posto, no? Siamo tutti contenti. Intanto Maki si scontra con Sukuna, pare che lei riesca a percepire la tecnica di Sukuna, di conseguenza non fa difficoltà a schivare i colpi. Ora io mi chiedo, è mai possibile che un semplice taglio sia una tecnica resa in modo così tanto complesso, inutilmente, oserei anche aggiungere? Questo lo percepisce, quest'altro non lo percepisce. A volte taglia lo spazio, a volte non lo taglia. A volte questo, a volte quest'altro. Ah, a Shibuya Sukuna ha usato il fuoco, ma non vi dico perché. Possiamo spiegare una volta per tutte come diavolo funziona questo potere? Cioè io necessito, cioè tutti necessitiamo, non è che possiamo immaginarlo. Maki comprende che Sukuna stia forzando il battito del suo cuore grazie all'energia malefica. E anche qui, come è possibile, cioè come riesce a farlo? Con l'energia malefica, va bene, grazie al cazzo, ma come la utilizza? Non so voi, ma la vedo come una forzatura allucinante che poteva essere semplicemente sviata facendo sì che Maki non colpisse il cuore di Sukuna. Oppure Sukuna che diceva semplicemente, noi maledizioni abbiamo il cuore in un posto diverso rispetto a voi umani. Oppure diceva, il cuore non è un organo vitale per noi maledizioni. Così mi sembra solo, beh, Sukuna deve andare avanti in qualche modo perché devo mandare avanti il manga. E per carità, il ProTarmor non è una cosa che mi dispiace, ma semplicemente vorrei che fosse contestualizzato meglio. Comunque sia, tutto ciò non basta perché a quanto pare Sukuna non sta ancora facendo sul serio. Sukuna non sta ancora dando il massimo e Uraume ce lo conferma perché appunto c'è un piccolo ritaglio di spazio dove per due tavole rivediamo Uraume e Akari. Penso sia lo scontro tipo più schippato del momento su Jujutsu Kaisen. Cioè questa cosa mi apre la mente facendomi fare una domanda, cioè mi prendete per il culo? Per il capitolo 253 abbiamo invece una pagina colori con protagonisti Maki e Sukuna. La maggior parte del capitolo si concentra infatti proprio sullo scontro fra questi due. In realtà c'è poco da dire perché fondamentalmente si pestano, cioè si pestano duro. E alla fine Maki viene sorpresa da un Black Flash di Sukuna, che pare spiaccicarla al muro e mandarla così KO. Che Sukuna potesse utilizzare Black Flash era ovvio, l'unica domanda era quando. Poi c'è qualche scena dove Ino prova ad attaccare ma viene messo KO, cioè un personaggio proprio del cazzo, cioè volete che faccia qualcosa? No. Ora spieghiamo una cosa, nel sistema gerarchico della stregoneria di Jujutsu Kaisen, primo grado è quello più alto, ovviamente è da escludere il grado speciale. Kusakabe è uno stregone di primo grado e i primo grado hanno ovviamente molta energia malefica dalla loro parte, però lui non ha una tecnica innata, di conseguenza non può utilizzare poteri particolari e si limita alle tecniche antidominio. A detta degli stregoni di grado speciale, Kusakabe è lo stregone di primo grado più forte. Certo attualmente è anche l'ultimo rimasto in piedi sul campo di battaglia e si trova da solo praticamente ad affrontare Sukuna, mentre tutti gli altri sono indisposti, o peggio morti. Nemmeno l'editor ci crede, tanto che fa il commento, oddio, sul serio, cioè Kusakabe contro Sukuna e Kusakabe dice devo ammazzarlo per forza io, e il capitolo termina appunto così, con questo dubbio, con questa frase. Faccio l'appello, allora capitolo 254, mi piacerebbe vedere onestamente un Kusakabe che inizia dicendo a Sukuna guarda io ti ho osservato, questa secondo me la tua tecnica funziona così così cosà, è corretto? E Sukuna gli fa, sì sì è corretto, ma adesso che lo sai che cosa vorresti fare? E lui gli risponde, non lo so, volevo solo prendere tempo, e così hai creato una gag e hai anche spiegato la tecnica di Sukuna. Dato che comunque Kusakabe, per quante figure di merda possa aver fatto in passato, non mi sembra un deficiente, di conseguenza potrebbe benissimo aver capito, tramite l'osservazione, la tecnica di Sukuna. Altro appello ovviamente che faccio per i prossimi capitoli in generale, ma per me doveva già essere stato fatto molti capitoli fa, Backstory di Sukuna, voglio vedere un cazzo di flashback su Sukuna, sulla sua vita prima di essere il Sukuna che conosciamo. Per me l'occasione giusta per mostrarla era nella battaglia contro Gojo, oppure nella battaglia contro Kashimo, o comunque un po' per entrambe. Faccio un esempio di tipo di storia che secondo me andrebbe bene per Sukuna, ovviamente non è vera questa cosa, è basata solo sulle mie supposizioni. Sukuna nasce, manifesta i poteri da stregone, tutti sono scettici e lo temono, così diventa un bambino non voluto, come aveva detto Kashimo. Sukuna salva il suo villaggio dall'attacco di qualche spirito maledetto, viene cacciato, perché la gente continua a vederlo come un pericolo visti i suoi poteri. Sukuna viene accolto da un gruppo di stregoni, così sviluppa l'arte della stregoneria, mentre uccide le maledizioni, e diventa troppo forte a causa del suo talento incredibile. Così forte che è temuto dunque anche dagli stregoni e viene ucciso a tradimento. Tuttavia allora non sapevano ancora che le persone uccise senza l'energia malefica diventavano maledizioni, o comunque c'era un'alta probabilità che lo facessero, così lui si trasforma in una maledizione. Come maledizione, velocemente Sukuna perde i propri sentimenti, positivi e negativi, decidendo di dedicare la vita al divertimento e alla stregoneria. La stregoneria che gli ha permesso di diventare forte e temuto. È il suo tutto praticamente. Così scala la piramide della forza e diventa re delle maledizioni. Nel suo cammino incontra gente come Euraume, Yorozu, eccetera eccetera. Gli stregoni puntano a farlo fuori, ma falliscono. Lui dice, sai che c'è? Voglio reincarnarmi in futuro per vedere fin dove arriverà la stregoneria, in cerca di qualcuno che possa regalarmi dei belli scontri. Sukuna si reincarna e il suo piano è sconfiggere tutti, combattere. Se vince, si reincarna in futuro. Se perde, muore perché c'è uno più forte di lui. Secondo me una backstory al bacio scritta da me in questo momento, in pochi secondi. Così penso che Sukuna sarebbe un personaggio con uno spessore ben più ampio di una sottiletta, che non viene ricordato solo perché è forte e perché è malvagio. Ma scrivilo tu il manga allora, qualcuno potrebbe dire. Se io avessi in mano un manga come Jujutsu Kaisen e fossi l'editor di Akutami, l'editor di Akutami, che attenzione l'editor ha un grande potere sul manga, sarebbe molto diverso e fidatevi che non avrebbe perso quelle cose che piacciono tanto. Ma anzi, avrei aggiunto qualcosa in più sui personaggi, perché se tu mi fai dei bei personaggi, mi fai dei belli scontri, mi fai delle belle tecniche, cioè, veramente hai vinto cazzo. Cioè, già Akutami ha vinto così perché le vendite parlano da sole. Però gente come me, onestamente, non capisce come Jujutsu Kaisen sia arrivato ad essere così venduto. Comunque sia, io non sono l'editor e quindi il manga ce lo teniamo così. E questi due capitoli, come tantissimi altri, sono puramente capitoli di combattimento, che ok, ci sta il combattimento, ma possiamo anche introdurre altro. Ecco, questi diciamo che sono i miei pensieri, però ovviamente sono tutti discorsi che, infatti in video su vari capitoli, insomma, si perdono un po'. Però mi piacerebbe fare un discorso poi a fine manga su tutto quello che ho letto, su tutto quello che ho provato con Jujutsu Kaisen. Magari però intanto fatemi sapere che cosa ne pensate voi, noi ci rivecchiamo alla prossima, e niente, vi ringrazio per la visione, ciao a tutti. Grazie.